Ciao, sono Martina e credo di poter definire l'esperienza video omnia come una delle più belle della mia vita. Quando sono arrivata qua tre mesi fa avevo appena concluso l'università e avevo veramente poca esperienza nel settore dell'audiovisivo, venivo da un'esperienza in radio ma insomma un po' diversa, avevo zero conoscenze e mi sono sentita un po' presa per mano perché con questi tre mesi di stagio ho avuto comunque modo di relazionarmi anche a cose diverse. Adesso arrivavo con zero conoscenze, adesso me ne vado invece con un bagaglio bello pieno. So cosa vuol dire un montaggio, so cosa vuol dire sul pratico fare un montaggio, so cosa vuol dire fare un evento streaming, so cosa vuol dire realizzare un prodotto a 360 gradi dall'ideazione fino a poi alla realizzazione finale. È stata un'esperienza davvero bellissima, mi porterò dietro sia quello che mi è stato dato a livello lavorativo sia a livello umano perché comunque ognuna delle persone che ha fatto parte di questo stage mi ha dato tanto e quindi sarò per sempre grata di questo.